amici di corse di moto tv benvenuti a questa nuova conversazione con l'ingegner mario manganelli stasera ci poniamo un quesito proprio alla vigilia dei test di sepang che aprono la grande stagione della moto gp dove sta andando questa categoria nello shake down dei giorni scorsi abbiamo visto delle cose abbastanza particolari a lettoni a profili aerodinamici convogliatori particolari tutta una serie di componenti che hanno fatto dire proprio oggi a mark markets dove stiamo andando fare la formula 1 ecco mario prima di entrare nel nello specifico e vedere qualche immagine dei test da progettista ricordiamo mario manganelli ex progettista aprilia altefice dei sette mondiali superbike conquistati piloti e moto poi ha avuto esperienze anche in formula 1 dove l'aerodinamica è preponderante in mercedes lo specifico quindi sei in grado di offrirci un un parere molto autorevole su questa strada che sta imboccando la moto gp ecco cosa c'è rimasto di motociclismo in questi veicoli così strani diciamo alla vista nostra di appassionato ciao paolo ciao a tutti allora e beh siamo sicuramente di fronte a una rivoluzione chiamiamola così tecnica e di regolamenti ecco perché sappiamo bene che ci sono stati delle dei cambiamenti a livello regolamentare con vari tipi di concessioni che vanno dai motori alle gomme ai pacchetti aerodinamici ai alle piste in cui i piloti ufficiali i collaudatori possono provare o non provare ci sono varie fasce che poi spiegherai tu meglio le moto sono molto diciamo attraenti dal punto di vista tecnico come sono le macchine di formula 1 che sono ricoperte di ali alette bandelle divisori di flusso interni esterni e ecco stanno cercando tutti del carico aerodinamico soprattutto in percorrenza di curva dove la moto chiaramente paga una velocità media di percorrenza decisamente minore a una vettura però dove probabilmente si riesce a fare una grossa differenza ecco ricordiamoci che nelle ultime gare avevamo visto che forse a parte Yamaha tutte le case erano allineate in termini di accelerazione velocità massima non avevamo più dei divari che avevamo visto alcuni anni fa di 15 chilometri all'ora per esempio la ducati super aveva una velocità di picco decisamente massima decisamente molto elevata rispetto alle altre quindi tutti stanno cercando maggiore carico downforce in percorrenza di curva addirittura sembra che aprilia abbia brevettato un sistema di pance per cui a moto inclinata si crea una downforce per avere più carico sulla spalla della gomma e quindi avere maggiore percorrenza questo chiaramente è un vantaggio molto 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 grande ecco ma personalmente ho visto un'esplosione di ali anteriori posteriori laterali e parafanghe che simulano dei canali per convogliare l'aria probabilmente verso il radiatore e Marquez fa bene a dire che dove si sta andando ecco le moto stanno diventando come immagine sempre un pochino più lontane da quelle che sono sicuramente le moto che possiamo comprare o vedere per la strada e si sono investiti tantissimi soldi nell'aerodinamica e nelle gallerie del vento e questo chiaramente per chi ha maggiori concessioni può essere un vantaggio personalmente alcune forme a me non attraggono particolarmente come amante della motocicletta come tecnico posso dire che sicuramente c'è una ricerca molto esasperata dell'aerodinamica infatti in aprilia ma anche in altre case sono stati introdotte figure tecniche derivanti dalla formula 1 dove in formula 1 l'aerodinamica sicuramente più avanti per le velocità medie superiori chiaramente ecco hai parlato del regolamento che cambia radicalmente lo scenario perché ci siamo lasciati a fine 23 con yamaka e onda particolarmente in crisi soprattutto la onda adesso è stato introdotto questo sistema di concessioni variabile che divide i costruttori cinque costruttori presenti in quattro fasce in percentuale ai punti raggiunti lo scorso anno quindi in fascia a con l'ottanta per cento e oltre dei punti conquistati c'è solo la ducati cat patiem e aprilia sono nel limbo cioè in fascia c in fascia d ci sono le due grandi malate yamaka e onda appunto cosa significa perché hanno fatto pochi punti cosa significa essere in fascia d significa tanto perché chi è in fascia d ciò e chi deve recuperare ha molte più gomme da utilizzare nei test si parla di 260 contro 170 della ducati quindi un vantaggio considerevole si parla della possibilità di fare i test come abbiamo visto nei giorni scorsi nello check down con i piloti titolari e non solo di fare dei test limitati su qualunque pista del mondo in qualunque momento del mondiale cosa che alla ducati è preclusa può girare solo con il test rider con il pilota test con il collaudatore solo in tre circuiti indicati all'inizio della stagione in più non ci sono le wheel card per la ducati quindi pirro dovrà accontentarsi purtroppo per lui di fare solo il campionato italiano superbike mentre le altre possono fare schierare fino a sei wheel card e dulcis in fundo la cosa che mario a te da motorista probabilmente intriga di più la ducati dovrà funzionare cioè chiudere i motori all'inizio del mondiale cioè non potrà fare nessuna modifica ai sette motori che le saranno concessi mentre i giapponesi potranno non chiudere i motori cioè non funzionarli tutti e nove motori che avranno a disposizione ma potranno durante la gatto durante l'anno introdurre delle modifiche al motore cioè per esempio correre il primo gran premio con il motore 1 in configurazione a poi magari al terzo gran premio introdurre novità di motore molto consistenti e così via quindi questi vantaggi sono estremamente esorbitanti e mario potrebbero avere un impatto considerevole sulla situazione a cui noi siamo abituati cioè la ducati là davanti la ktm a inseguire l'aprilia un po' nel limbo le due giapponesi in grave difficoltà con questo pacchetto di grandi vantaggi potremmo vedere un bel rimescolamento di carte non trovi? Ah certamente Paolo e giusto i numeri commentiamo i numeri poi andiamo sul dettaglio cioè pensiamo che Honda e Yamaha avranno il trenta per cento di gomme in più è un'enormità capito cioè è una quantità enorme di gomme avranno la possibilità di provare su qualsiasi pista con i piloti ufficiali e che non sono i collaudatori quindi con i piloti ufficiali già in anticipo a una gara o subito dopo una gara e questo vuol dire riuscire a anticipare i tempi o rivedere post gara delle soluzioni provate che magari non hanno dato tutti i vantaggi tornando poi su andando poi su una pista similare potranno avere in anticipo un determinato vantaggio quindi sicuramente è enorme cosa che invece non potrà fare Ducati e non potrà fare neanche Aprilia KTM potranno solo andare nelle piste Geres, Misano e Mugello e in più i Honda e Yamaha potrebbero avranno maggiori wildcard cosa che invece è proibita alle altre scuderie alle altre case ecco provare girare in pista cambiare pista e cambiare pilota è un vantaggio enorme è chiaramente un costo ed è chiaramente un rischio perché chiaramente tutte le volte che facciamo un test possiamo avere anche dei risultati negativi però i risultati negativi poi ci guidano verso i risultati positivi però non è non è sempre un vantaggio avere tantissime possibilità avere i motori e qui mi soffermo su questa questa osservazione avere i motori non sigillati vuol dire che io posso cambiare specifica a tutti i motori che monto cioè io ne chiudo uno che chiamo a poi l'altro il secondo b eccetera posso cambiare motore e avere maggiore flessibilità da una pista l'altra posso avere un motore con una caratteristica più da pista veloce e un motore magari con una caratteristica più da pista medio lenta anche qui è anche qui un rischio perché chiaramente io porto delle soluzioni e devo averle sviluppate in performance e in endurance molto bene a casa ecco quindi sviluppare portare componenti su n motori piuttosto che su pochi motori rispetto alla Ducati è sicuramente un vantaggio ma deve essere fatto nel modo migliore e lo stesso venne a suo tempo anche con la superbike quando furono congelati i motori ma ricordo bene che prima di questo arrivo di questa di questo regolamento avevamo i motori liberi e potevamo usare 20 30 40 motori all'anno è chiaro che aveva bisognava sviluppare i componenti molto bene a casa poi puoi essere estremamente redditizi sui campi di gara o nei test è chiaro che ci sono aziende che spenderanno molto di più per lo sviluppo e questo dovrebbe essere la ricetta per riuscire a colmare il gap che si è creato negli ultimi due anni perché possiamo dire che sono stati negli ultimi due anni in cui la Ducati l'ha fatta da padrone anche agevolata dal numero dal fatto di avere molte moto sulla griglia ecco e a sfavore di Yamaha che ha perso un team a favore di Aprilia e Honda che oltre aver perso un grandissimo pilota è indiscutibile senza togliere niente a Luca Marini e al suo compagno e dovranno recuperare con queste concessioni ecco quindi le concessioni sono utili se gestite dalla casa costruttice nel modo migliore ecco e in tutto questo poi ci sono i due pacchetti aerodinamici liberi a disposizione per tutte le case a parte che per Ducati e anche qui la scelta va fatta molto bene per questo vediamo in questi giorni abbiamo visto tantissime soluzioni che dopo magari in qualche foto possiamo commentare per cui si sta veramente provando un po' di tutto per cercare di filtrare il più possibile le soluzioni migliori in questi due pacchetti che poi dovranno essere deliberati ecco e dopo uno se li tiene così fino alla fine dell'anno ecco Mario guardiamo un po' nel dettaglio cosa abbiamo visto in questi shakedown nella foto 1 vediamo la Honda in sella c'è il collaudatore Stefan Bradler la Honda che ha devoluzionato il veicolo comincia l'era post markets la cosa che incuriosisce che ha un po' suggestionato di più noi appassionati è questo codone con questo appendice abbastanza curioso questo stregosauro che richiama un po' l'animale preistorico ecco perché i progettisti aerodinamici si spingono verso queste soluzioni così pittoresche possiamo dire ma allora osservando questa foto qui vediamo bene che c'è un desiderio di indirizzare un flusso d'aria pulito dietro la schiena del pilota che non è una zona estremamente pulita ma la volontà di recuperare diciamo di indirizzare verso quella lettoncino posteriore sopra proprio il codino e l'aria in quella zona lì questa volontà è perché in quella zona lì di solito il flusso d'aria non è estremamente pulito e con quelle sorta di appendici alette si cerca di indirizzarlo verso la posteriore è un po' quello che si vede nelle appendici che ci sono davanti alle bocche delle formula 1 per indirizzare l'aria verso appunto i radiatori che sono presenti nelle 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 prese d'aria destra e sinistra ecco questa è l'interpretazione nella parte anteriore invece si vede bene il cupolino con l'ala e queste due ali laterali che sono un po' una replica anche se non identica a quello usato l'anno scorso introdotto da ducati e diciamo copiato in qualche modo anche da onda e invece la parte della carena è molto scura e non si nota se c'è quella zona di gradino come ha proposto aprilia già l'anno scorso è apparentemente molto molto efficiente ecco questo per per onda possiamo dire veniamo alla foto 2 che è la ktm che con il suo special tester qua con danni pedrosa parliamo di un collaudatore che a misano è arrivato quarto quindi dando paga a tantissimi piloti titolari nonostante i cinque anni di stop ecco danni pedrosa sulla sua rc16 ha collaudato questo questo piccolo alettone sull'avantreno nella zona del parafango anteriore che mi sembra scomparso alettone che potrebbe tu da motorista veri anche che potrebbe fungere anche da convogliatore d'aria oltre che da generatore di deportanza sull'avantreno sì c'è questa letta anteriore doppia e si vede un arco con la zona centrale più nera che appare sembra essere un condotto dell'aria dopo non sappiamo se ha uno sviluppo orizzontale o ha uno sviluppo eh circonferenziale cioè segue la il parafango e che serve in canale d'aria cioè creando un condotto così probabilmente a valle dell'ala si stabilizza un flusso perché se fosse chiuso se quella bocca fosse chiusa chiaramente sarebbe un punto di ristanio e l'aria non arriverebbe a ehm a a bagnare l'appendice all'are e quindi si crea appunto un'apertura posteriore per creare un flusso un po' quello che veniva fatto anche negli aeroscopi di formula uno che avevano ehm oltre alla presa che che conduceva l'aria verso diciamo il filtro aria e la parte inferiore del motore l'alimentazione aria aveva anche un'apertura posteriore per rendere più pulito l'ingresso dell'aria aprendo una una bocca posteriore si crea una una depressione che riesce a indirizzare l'aria in maniera più rettilinea ecco veniamo alla foto due bis parliamo sempre della KTM sempre con Dani Pedrosa eh Mario raccontaci perché spiegaci perché questa colorazione così strana questa zebratura non è che i tecnici della KTM si sono imbizzarriti una mattina di dello shakedown ecco perché si usa questo tipo di eh colorazione? E questa colorazione la vediamo anche spesso a volte nelle auto che incontriamo per la strada che sono delle delle sorta di 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 prototipi e danno non per sé non permettono all'occhio umano e neanche alla telecamera o la fotocamera di a percepire le profondità e quindi si cerca di mascherare con questi diciamo eh colori con questi colori ehm casuali e anche alterni in modo da non mostrare delle superfici che variano ecco ehm tornando alla anche alla foto di prima si vede da parte di KTM l'esasperazione della dell'ala posteriore che addirittura ha una forma con due eh eh appendici alari eh nella zona posteriore questa è una una prima soluzione con una sola appendice l'aveva introdotto KTM a metà stagione poi eh vediamo che adesso invece hanno introdotto anche quella posteriore quindi sicuramente stanno facendo dei delle prove di bilanciamento del carico anteriore e posteriore per capire in che direzione andare ecco ecco nella foto tre passiamo alla Yamaha la M1 che ha un pilota di assoluto prestigio e come Fabio Quartararo però l'anno scorso non è andata granché bene la Yamaha come vediamo sta lavorando molto sulla aerodinamica ma quello che mancava era la potenza in Yamaha è arrivato Luca Marmorini ecco Mario secondo te a che punto potrà essere questa cura Marmorini se potrà essere già visibile diciamo l'effetto oppure troppo presto ma io penso che sicuramente i risultati ci saranno eh Luigi Marmorini è un miglior tecnico che poteva contattare eh Yamaha per lo sviluppo del del motore avere eh della componentistica aggiornata con le ultime tecnologie che lui conosce bene molto bene e io penso che se stanno sviluppando l'aerodinamica in questa direzione per aumentare le downforce sicuramente hanno in mano già un motore decisamente prestazionale perché eh ehm questa è sicuramente la direzione che stanno prendendo eh con la sua eh consulenza e il suo ottimo lavoro e quindi anche loro si stanno spingendo molto avanti per creare downforce avere maggiore carico eh nelle zone specialmente in percorrenza e hanno sicuramente in questa foto si vede un'ala posteriore importante mi pare più più larga ecco di quelle che abbiamo visto nelle nell'altra ehm ehm motocicletta e eh anteriormente un'ala similare a quelle già viste in onda con un'interpretazione diciamo eh più personale qui Yamaha ecco io penso che Yamaha ehm sicuramente sarà una sarà la moto forse che farà il maggiore step quest'anno io penso perché mi sembra stiano lavorando molto bene e e arriveranno sicuramente con dei risultati molto importanti ecco ecco passiamo alla alle due marche italiane la foto 4 ritrae Luca e Lorenzo Salvadori con la Aprilia Aprilia che l'anno scorso ha fatto dei grandi progressi però ha lamentato soprattutto nel finale di stagione un eccessivo riscaldamento del veicolo cioè il motore sfrigionava un calore tale da mettere addirittura in difficoltà i piloti da motorista come secondo te possono aver agito i tuoi ex colleghi in Aprilia? Ma allora eh loro eh io penso che eh Aprilia abbia lavorato molto con un'aerodinamica eh soprattutto sul flusso esterno eh presentando queste panze molto particolari frutto di un eh attività di calcolo e di simulazione molto spinta e hanno persone molto competenti da questo punto di vista sia dal punto di vista dei calcoli sia dal punto di vista della delle soluzioni aerodinamiche e sono saliti di prestazione quindi salendo di prestazione eh il carico termico sul motore aumenta e probabilmente è stato safrificato un pochino di più il flusso interno dell'aria perché ricordiamoci sempre che un mezzo che sia auto che sia moto ehm ha sempre un flusso esterno e un flusso interno ecco quindi entrambi devono essere tenuti in considerazione e mi pare che abbiano eh fatto delle scelte per migliorare anche il flusso interno e lo si vede anche da quelle bandelle che ci sono nella parte finale della della carrozzeria della carenatura e ricordiamoci che Aprilia aveva introdotto anche quella specie di eh deflettore posteriore sotto il forcellone che aveva migliorato moltissimo eh nelle zone di trazione anche a moto piegata ecco poi hanno sicuramente lavorato sull'ala anteriore eh e su eh delle alette che si vedono lì altezza del ginocchio eh una è parzialmente coperta nell'angolo di piega che probabilmente raddrizzano il flusso nella parte superiore al gradino ecco questo probabilmente migliora soprattutto in percorrenza ehm ehm il fatto che il motore eh scaldava può essere visto anche come una dimensione dei radiatori magari un po' più piccola a livello di superficie frontale per agevolare l'area frontale del motoveicolo ecco quindi il fatto che il motore scaldi era probabilmente una conseguenza anche legata alla dimensione dei radiatori però è difficile dirlo è solo un'ipotesi ecco a volte si può avere un motore che scalda più del normale perché i radiatori erano piccoli questo era successo anche in Mercedes in cui era stata scelta un'aerodinamica delle pance molto limitata e il motore eh lavorava a temperature un po' più elevate è chiaro che ehm a fronte della i conti devono essere sempre fatti con con la fidabilità ecco nella foto 5 vediamo la regina da Ducati con Michele Pirro in sella da Ducati che presenta questa cadernatura eh con queste vistose chiusure evidentemente di feritoie e questo dispositivo molto strano sul perno ruota posteriore ecco in un minuto se tu cosa vedi da questa fotografia cosa potresti scoprire cosa puoi scoprire allora Ducati ha confermato l'ala anteriore con un ulteriore sviluppo e una presa eh tipo NACA proprio sotto la manopola sotto le le manopole eccola si vede appena è un po' più scura eh diciamo sotto sotto le sotto le mani del pilota e poi questa zona eh in basso diciamo eh nella zona del radiatore dell'olio lateralmente ci sono queste due prese che girano ruoto girano ruotano l'aria verso il basso per creare appunto un flusso sotto la carena e nella parte appena posteriore a questa zona c'è questa chiusura che probabilmente serviva per aprire o chiudere un flusso dell'aria e avranno fatto prove comparative e ehm nella parte posteriore potrebbe esserci così schermato da nastro metallico un sensore che misura eh o l'inclinazione del veicolo oppure legato a ehm distanza dal suolo intesa radiale non verticale ecco però è difficile capire che cosa possa essere oppure un sensore di temperatura magari verso la spalla della gomma ecco non lo so è molto difficile interpretarlo ecco qualcosa stanno misurando eh in maniera molto dettagliata domani cominciano i test i test sono imminenti quindi vedremo cosa poi alla fine è il cronometro che dà il suo verdetto quindi sarà interessantissimo capire tutto questo grande lavoro questi grandi investimenti questa enorme attività tecnica di sviluppo che è stata fatta sì in cosa si tradurrà ci sono anche tanti abbinamenti markets in Ducati insomma il piatto è ricchissimo e vedremo nei prossimi appuntamenti cosa eh cosa arriverà per suggestionare la nostra curiosità per il momento grazie mille Mario Manganelli e grazie a tutti i nostri eh lettori e telespettatori ciao a tutti grazie ciao Paolo presto grazie grazie a tutti